bello a tutti ragazzi e benvenuti a questo video a nicola guardo e oggi siamo in un nuovo video oggi ragazzi siamo qui a parlare di questa cosa allora è la prima volta che mi vedo in faccia ma perché in questo periodo non sto facendo più gameplay per motivi di perché ho un cazzo di programma che non mi funziona se non riesco a usarlo e quindi fin quando non arriverà a mia cugina che proverà a tenterà di fammelo utilizzare non potremmo fare gameplay oppure se mai faccio riparare il mio telefono perché sono un po così mi piace di suggerire tutto come questo sì infatti l'argomento di oggi è boeing e infatti se si è detto al titolo si chiama boeing è un masochista per motivi precisi spiega una cosa partiamo con le basi allora avete presente quando si sapeva pronunciare un nuovo cartone come crego the creek faccio un esempio così è praticamente loro dicono che praticamente sarebbe stato un cartone dedicato delle basi rivali con vabbè con persone a caso no con tipi in realtà in realtà parla di un cazzo di ragazzo di colore sul ruscello fine c'è parla di del titolo originale fa fa schifo c'è mi aspettavo dei combattimenti manco vabbè con dragon ball siamo questi discorsi però dei c'è c'è ma cazzo ma cazzo c'è mai stavo dicendo una ma vaffanculo perché allora io pensavo io pensavo di fare che ci sia fosse una specie di battle royale si è svolgato online da come lo dicevano loro non è che sono un ragazzo da pensieri ampi come per una cosa ne pensano due miliardi ma dovete anche capire che uno che dice difendere il campo dalle basi rivali e poi in realtà un cazzo di ruscello ma lo spiegate che problemi avete va bene non dubito che credi sia un brutto cartone anzi mi piace però dovete anche capire che non è normale dire tutte queste ambiziose promesse che poi in realtà non è così angolo cioè ragazzi non ha parole c'è allora boeing seguendo questo video dubito di notte che i miei video sono non sono molto visualizzati ma dovete capire ma devi capire che se provi ancora una città per favore devi fare rifare dei trailer che siano veritieri non può dire difendere il campo dalle basi rivali e poi c'è quella che combatte non lo so gli nervumeri e poi c'è quello che pensa le strategie no no in realtà craig non è quello che pensa se del giro in realtà disegna le mappe del ruscello ma ragazzi non ho parole io non ho palesemente parole ragazzi ma non ci credo ma io veramente questo questo canale è il peggiore ma ma parte il fatto che in questo periodo come avete visto fatto vedere prima non potevo svuappare la videocamera perché non c'ho sto dicendo con la videocamera del computer con questo qui questo qui e purtroppo dovete anche capire c'è la meta di Yusei sono fierissimo dovete anche capire che a proposito di Yusei yugioh non lo fanno più vabbè questo è un discorso questo è un altro discorso su k2 perché questo periodo stiamo parlando di Boeing e ci può stare ma allora super chicche c'erano episodi ed erano ed era un cartone per me del cuore quasi quanto Dragon Ball vabbè Dragon Ball non ho visto tutti vabbè vi scopri super chicche lo so che tu stai dicendo Dragon Ball è bello no io non sto dicendo che Dragon Ball è brutto vi sto dicendo che mi riesco più super chicche no perché io ti conosco tu che tu e te che mi fai schifo ti conosco ti ho visto l'ho visto quando ero sulla playstation 3 ti ho visto non mi e rimangiato non mi sto capendo non mi sto capendo allora io non sto dicendo che Gumball è brutto ma a mio parere è un cartone che non merita esistere a mio parere a mio parere ho detto è a mio parere però chi dice che è divertente veramente una bestemmia quasi quanto Germano Mosconi però dovete anche capire non mi sto capendo perché non ce la facevo però dovete anche capire che non puoi dire allora io ti giuro se tu provi a dire Gumball mi piace e poi dici Yu-Gi-Oh! fa schifo dico te dico te hater dico te buco stronzetto se ci provi ti vengo a cercare vabbè a parte mi sento da killer io vi lascio al video e vado a insultare a morte later quindi lasciate like iscrivetevi condivete e ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao